ebbene carissimi amici come ogni mese puntuale vengo qui sul mio canale youtube a portarvi la vincita di ambo infallibile ambo infallibile ancora vincente un metodo inarrestabile un metodo inarrestabile sono venuto sul mio canale a dirvi attenzione a novembre perché vinciamo di nuovo molti alcuni non troppi mi hanno ascoltato e si sono portati a casa l'ambo secco 47 60 sulla ruota di bari il 21 di novembre infatti avevo avvisato questo metodo è una garanzia vincente infallibile ogni mese cosa state aspettando ancora a prendere questo elaborato continuo a collezionare vincite su vincite una garanzia vincente pazzesca ogni mese prendete subito il metro dicevo perché andremo a vincere con un'altra grande bomba vincente nel mese di novembre questo vi avevo detto detto fatto ambo secco 47 60 sulla ruota di bari non c'è da pensarci due volte mese scorso abbiamo centrato due ambi secchi in un solo mese di gioco mese di novembre arriva e 47 60 sulla ruota di bari e qui avete la testimonianza originale documentata dell'ennesima vincita di questo straordinario elaborato io penso che un metro del genere dovete averlo tutti tutti voi che mi seguite sul mio canale è un metodo che non può essere perso perché tanto verrò di nuovo a dicembre a portarvi la vincita avrò di nuovo a gennaio a portarvi la vincita e così via un metodo che costantemente vi porta a vincite di ambi secchi il metodo è sempre a carattere mensile due ambate che si giocano in tre colpi più gli ambi secchi sei ambi bari nazionale di una potenza estrattiva inaudita che vengono giocati per tutto il mese a volte danno anche vincite multiple come è successo nel mese di ottobre qui di seguito avete tutte le vincite ottenute dal metro da gennaio 2019 guardate quante ambate quanti ambi secchi ha portato a casa ambo infallibile una cosa incredibile proprio negli ultimi mesi tra settembre ottobre novembre ci sono portati a casa tre ambi secchi uno dietro l'altro 45 54 nel mese di settembre nel mese di ottobre l'86 e 9 e lotta e il 68 e 9 poi a sia bari nazionale e proprio ieri estrazione del 21 novembre ambosecco 60 e 47 quindi cari amici non lo perdete assolutamente un metodo da avere è un metodo da avere non è possibile che non si prenda questo elaborato è un'occasione che sto dando ancora per poco non so fino a quando davo la possibilità di acquisire questo elaborato quindi approfittatene adesso perché è veramente un metodo bomba è un metodo di una garanzia incredibile quindi contattatemi al mio indirizzo email che vi metto come sempre in descrizione per conoscere tutte le modalità di acquisizione di ambo infallibile è uno strumento che dovete avere in mano tutti per vincere dove si trova un metodo del genere che paga ambi secchi costanti ogni mese gli utenti che hanno in mano il metodo sanno che lo mettono in gioco e sanno che nell'arco del mese vanno ad incassarsi la vincita quindi veramente un'altra incredibile vincita da questo favoloso metodo quindi speriamo che si continui così chi non è il metodo lo prenda lo prende perché è forte è molto forte questo è un ulteriore testimonianza dell'efficacia della forza di questo elaborato 47 60 bari per adesso saluto a tutti mister sbancolotto